Ciao ragazzi e ben ritornati ancora in mia compagnia. Oggi vi presenterò un allenamento total body dove andrò ad utilizzare lo step e il bilanciere pump. Io svolgerò 30 secondi di allenamento e 10 secondi di pausa. Il workout dura in totale 8 minuti. Voi per rendere efficace questo allenamento dovete svolgere 4 round a giorni alterni. Se per caso a casa non avete a disposizione un bilanciere potete utilizzare o due manubri o due bottiglie d'acqua da un litro e mezzo riempite. Io quello che utilizzo io ho un bilanciere pump. I dischi sono riempiti con la sabbia. Siete pronti? Andiamo pure! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!